Mi dispiace per questa sconfitta perché secondo me la prestazione è stata una prestazione completamente diversa da quella della Juve Stabia con purtroppo i soliti errori su palla inattiva perché lo potevamo già subire nel primo tempo su un calcio d'angolo l'abbiamo subito su un calcio di rigore molto evitabile perché c'era un attaccante girato di schiena quindi anche quella è un'ingenuità e abbiamo concesso il 2-1 su una palla laterale dove ripeto a questo punto è proprio una questione di attenzione, di singoli difficile quasi da commentare perché se andiamo a vedere la mole di gioco che oggi ha offerto il Bari le occasioni che ha avuto il Bari oggi contro il Modena secondo me viene fuori proprio un discorso qualitativo e di alternative che in questo momento ci mancano quindi dobbiamo stringere i denti, dobbiamo non perdere la fiducia perché poi sono convinto anche che partite come queste con questo tipo di prestazione comunque non possono andare sempre in maniera negativa quindi dobbiamo riuscire a tenere in qualsiasi modo la testa alta e andare avanti perché ripeto questa è l'unica strada in questo momento da percorrere al netto di togliere queste disattenzioni dei singoli sui piazzati grazie